L'argomento di oggi è la via Francigena-Novalese, ma inevitabilmente dobbiamo percorrere tante via Francigena, perché non solo era un'arteria principale, ma tanti sentieri, tanti trattori che si congiungevano nei centri principali della cristianità, soprattutto Roma, capitale della cristianità per Antonomasia o Gerusalemme, attraversando il mare Mediterraneo, ancora un altro luogo importante era San Diego di Compostela, verso ovest, Finisterra, poi c'era il Grande Oceano e a nord il Mont Saint Michel in Normandia, oppure Monte San Michele del Gargano. Quattro centri della cristianità e poi tanti altri centri della cristianità che si ramificavano in tutta Europa. Monasteri erano i punti di incontro di questi viandanti, di questi pellegrini, i quali non sempre erano sicuri di giungere alla meta, tant'è vero che prima di partire facevano testamento. Ebbene, guardiamo appunto una mappa e attraverso questa mappa dell'Europa troviamo queste tante vie che si congiungevano nelle grandi capitali della cristianità, dove si raccoglievano a pellegrini per pregare San Michele, pregare i Santi Apostoli, Pietro e Paolo, andare a visitare i luoghi della cristianità che sono appunto i luoghi sacri dove Gesù Cristo è vissuto. Diciamo che l'Europa si è risvegliata dopo l'anno 1000. Come dice Rodolfo il Grabro, famoso cronista, dopo l'anno 1000 l'Europa è cominciato a risvegliarsi, era finita l'epoca buia, così chiamata, dell'età feudale, dopo le grandi incursioni dei Saraceni, le incursioni dei Normanni e le città incominciano a prendere vitalità, i paesi cominciano a rinascere, rinasce il commercio, specialmente la nostra nora padano, oppure al nord le famose fiere dello champagne, nascono delle città anche i borghi franchi, per esempio il nostro bordo manero e questo risveglia l'Europa, risveglia il commercio e l'europeo inizia a muoversi verso i luoghi della cristianità più celebre e più importanti. Il Piemonte era sicuramente una regione importante in quanto permetteva l'incontro di pellegrini provenienti dal nord, dalla Francia, dalla Lottaringia e altro verso i luoghi della cristianità e passavano attraverso i vali chialpini, soprattutto il Moncenisio, il Monginebro e per quanto riguarda il Gran San Bernardo e per quanto riguarda invece il Novarese, il Sempione, il Passo dell'Arbora, il Gries e il Passo San Giacomo. Sono i principali passi da cui si scendeva per raggiungere, vuoi le nostre ubertose pianure, pianura padana in particolar modo, vuoi i luoghi sacri della cristianità. Racconta il nostro grande storico Mark Bloch che nel medioevo la circolazione non si incanalava seguendo qualche grande arteria, ma si distribuiva capricciosamente in una moltitudine di piccoli canali, per cui quando parliamo di via francigene, dobbiamo dire appunto al plurale tante vie, tante sentiere, non facili anche da rintracciare, anche se oggi si cerca di individuare quali sono le principali vie che conducevano verso i luoghi della cristianità. Nella mappa che noi vediamo, notiamo che ci sono le principali arterie, ma non sono le uniche, quelle segnate su questa mappa, una scende dal Gran San Bernardo, un'altra da Moncenisi, un'altra da Monginevro e le nostre vie francigene che scendono dal Sempione, dal Gries e dal San Giacomo, i quali poi si raccoglievano nelle grandi città, pensiamo a Vercelli, Novara, per poi condursi verso Mortara, Pavia e poi ricongiungersi con quelle principali che sono appunto le vie francigena di Toscana, che passa da Fidenza, scende a Lucca per arrivare poi a Roma. Sono tanti i documenti che permettono di stabilire che veramente ci furono pellegrini che percorsero queste vie. Alcuni documenti sono cronache, altri sono diari e ricordiamo che tra i tanti pellegrini che scesero nelle nostre vie sulle strade piemontese tra il X e il XII secolo ci fu anche un famoso vescovo, Sigirico di Canterbury, il quale nella sua cronaca racconta che percorse ben 1600 chilometri in 80 tappe passando da Osta, Santià, Vercelli, poi verso Novara, Mortara, Pavia, per raggiungere Roma. Un altro documento interessante risale al 1154 e riferito a un certo abate irlandese, un certo Nicoulas de Mauncantvera, il quale passò sicuramente da Vercelli, Ivrea, Ponce e Martè risalendo e andando poi verso il Gran San Bernardo e risalire poi e tornare in Irlanda. Anche i re hanno percorsi queste vie piemontesi, pensiamo al re di Francia Filippo Augusto che nel 1191 ritornò del Gerusalemme passando proprio da Pavia, Mortara, Vercelli, Torino, il Moncenisio. Un santo, San Guglielmo da Vercelli, andò in Galizia per andare poi per raggiungere Santiago di Compostela. Il nostro San Francesco da Assisi e dal centro Italia attraversò i territori del Piemonte o della Liguria per raggiungere appunto nel 1223 Santiago di Compostela. Altri nomi dei famosi pellegrini che raggiunsero luoghi sacri e importanti abbiamo l'abate Alberto di Stad che scrisse gli annales stadenses in cui viene citata la via francese piemontese principale che appunto passava da Susa. Anche un gruppo di biellesi, questi sono atti che si sono trovati, gli atti di lite tra Bielle e Tollenio, una cronaca che racconta appunto una tensione tra questi due paesi, tra questi due centri e un gruppo di biellesi che si ricano appunto nei luoghi sacri di Santiago di Compostela e sono nomi Giacomo Cerutti, Giacomo Guascone, Rainero de Poma, Alberto Canevaro, Giacomo Mussi, Adorno Pietro Bello e altri ancora i quali si raccorsero per raggiungere appunto questi luoghi sacri. Ancora un nome, un Bartolomeo Fontana racconta che nel suo viaggio da Novara a Susa lo condusse in terra tedesca facendo una deviazione perché molte volte le strade erano impedite per alluvione per altri motivi, anche epidemie o altre ancora e quindi dovete fare una deviazione in terra tedesca per raggiungere poi più avanti Santiago di Compostela. Gruppi che passarono da Ivrea sono francigeni, burgundi, lombardi, angli, angli, scozzesi i quali appunto si erano recati a Roma e poi tornarono appunto nelle loro terre. Questi documenti sono raccolti nel cosiddetto Corpus Statutorum Canavesi nei secoli XIII e XIV. Nella mappa che noi vediamo troviamo una segnata, questa via francigena novarese, la quale è indicata con un colore verde, la quale parte da Novara evidentemente, da Novara attraverso la strada mortariense raggiungeva poi Mortara Pavia e risaliva invece verso nord passando da Caltignaga a Momo per poi biforcarsi in due sentieri. Uno verso ovest percorreva il tratto di Cavaglio, Cavaglietto Mediano, Fontanetto, Cureggio per poi raggiungere Borgo Manero, Borgo Franco sotto nel XII secolo, verso la Fiera del XII secolo, 1195-98 e poi andare verso il Cusio, Ossola per raggiungere poi i passi che abbiamo già citato. L'altra strada invece che da Momo risaliva verso i nostri passi alpini, passava da Suno, Cressa, poi Bogogno, Agrate, qui ci sono diversi sentieri, Veruno, Rivislate, Veruno, per poi raggiungere Gattico, Barraggiola e poi Briga e raggiungere ancora una volta la riviera di San Giulio e poi ricongiungersi nella grande arteria che portava verso i passi alpini. Ebbene, lungo queste strade sorsero tante chiese, alcuni monasteri, alcuni ospitali, per ospitali si intende, o senodocchia così chiamati, si intendono appunto luoghi di ospitalità e legati spesso e volentieri appunto monasteri di matrice benedettina in ordine riformato, con l'ordine riformato dei culinacensi. Lungo la via francigena, chiamata anche Francesca, Novarese o Francesia, proprio perché aveva a che fare con questo riferimento ai paesi francigeni, d'Oltralpe, sorgono tante chiese, molte delle quali sono dedicate proprio a San Giacomo, protettore dei pellegrini, o a San Cristoforo, o a San Donnino, più raramente da noi, più che altro San Giacomo. Tant'è vero che dalla mappa, come potete vedere, sono segnate più di 30 chiese dedicate a San Giacomo, alcune sono ormai scomparse, risalgono all'unicesimo secolo, altri invece si possono ancora individuare oggi, ci sono ancora oggi e noi le vedremo piano piano, vedremo delle fotografie che ci permetteranno di percorrere insieme a questi pellegrini del passato queste strade che piano piano cerchiamo ancora di ricostruire e individuare. Lungo queste strade, dicevamo, ci sono anche dei monasteri, più che altro monasteri di origine benedettina e di radici culinacensi, riformati, benedettini riformati, che davano ospitalità ai viandanti, i pellegrini, rifocillandoli nel loro percorso. La strada via Francesca, così chiamata, naturalmente è citata in tanti documenti. Tra i documenti ricordiamo gli Statuti di Novara del 1227, siamo a perciò nel XIII secolo, nell'articolo 399 si parla appunto di strata pubblica Francesca quevadita Novaria in Oxolam a Burgum a Nairis inferius e dicta strata Francesca declaretur esset illam quaigitur momum et deinde gaudianum et in ripariem et ad homus Oxola. Ebbene, sostanzialmente parte da Novara, si fa passando da Borguma Nero, siamo appunto, abbiamo detto nel 1227 che Borguma Nero era già un borgo franco esistente da circa 30-35 anni e passa attraverso Momo, quindi Gozzano, gaudianum, e va nella riviera di San Giulio, la Ripariam, per arrivare poi a Domodossola. Un altro documento che cita questa via è un documento che mette in relazione il vescovo di Sion del Vallese, oltre il Sempione, che porta poi verso Ginevra, Sion, Ginevra, e mette in rapporto questo vescovo con i mercanti milanesi e parla proprio di sistemare le strade che conducevano a Milano, tra cui la via Francesca Novarese, passando appunto per il Sempione, il documento del 1262. Lista tutti della Valle di Vedro del 321, in diversi articoli parlano di questa via Francesca, Francigena Francesia, nell'articolo 17, 27 e 51. L'articolo 51 chiama la via Francesca strada dell'Ossola. L'articolo 27 dispone che non sit aliqua persona que ducat vel lucere debiat aliquas bestias de valico, nec dealis partis unisi per stratam franciscam, per territorium ditte vallis. Il cronista Pietro Azzario nel XII secolo parla nel suo acronaca di Camino Francesco, quindi un cammino francese, che passava appunto da Novare e poi si ricongiungeva le grandi arterie che portavano verso il Po e poi da Pavia verso Piacenza, fino ad arrivare in Toscana e Sud Italia. Nelle consegne, 1347, le consegne dei benefici delle noce di Novara, che erano stati fatti redigere dal vescovo Amidano, parlano di via Romea o Francesca. Infatti la via che da Pavia in poi prende il nome di Romea e i Romei sono i pellegrini che raggiungono appunto Roma, come vengono chiamati i giacò, quelli che vanno verso Santero di Compostela, oppure i palmieri, quelli che vanno verso Gerusalemme. Palmieri perché da Gerusalemme poi si portavano, come ricordo, una palma, una foglia di palma. E questa strada, via Romea, usciva dalla strada Mortariense, a sud di Novara, e andava verso Novara e poi per raggiungere Roma. Ancora un documento dell'8 marzo del 1400, firmato da Giangaleazzo Visconti, il quale ordinò che i pellegrini provenienti da Briga, dalla Svizzera, dovessero passare necessariamente dalla Novara per dirigersi verso Pieve di Cario sul Po. Lì c'era poi un posto di blocco, il ponte, di barche presumibilmente, la Dogana e poi attraversavano il Po e andavano verso il centro Italia. Ancora un documento più recente, relativamente più recente, 1631, una disposizione sanitaria che fu emanata dalla Sanità pubblica di Genova per controllare i viandanti che provenivano da oltralpe perché potevano essere possibili portatori di peste. I documenti quindi attestano l'esistenza di questa via o di queste vie più sentieri. Chiunque di noi che ama camminare sa che passando per i boschi troviamo tantissimi sentieri che conducono verso un luogo e così era allora. Certamente i punti di riferimento sono chiese, monasteri, centri rubani, mercantili, Borgomanero un esempio, Domodosso un altro o Megno un altro ancora, Orta sicuramente, per cui centri mercantili che raccoglievano appunto, facevano da punto di convergenza di viandanti, mercanti e pellegrini. Ma tanti erano i sentieri, tante le vie. Ebbene su queste vie, sulla nostra via Novaresi, troviamo dei personaggi famosi che le hanno percorse. Uno, 1132, Papa Innocenzo II, il quale transitò da Novara diretto in Francia. Un secondo Papa, che ricordiamo nel 1274, Gregorio X, di ritorno del concilio di Leone, discese in Italia passando per Briga e Sempione, sulla via Francigena Novaresi. Fu compiuta anche, cose normali, fu compiuta un furto, un'aggressazione a danno di un gruppo di mercanti francigeni che intorno nel territorio di Suno, in quell'anno 1277, furono assaliti da un gruppo di briganti. Questi francisi provenivano appunto dalla Gallia. Dice testualmente documento, datato primo aprile 1277, robaria facta de hoc anno dominico, quindi domenica, primo aprilis, in territorio Xuni, in Francigenos et Ultramontanos, provenientes et Spartibus Gallicanis in Italia. Non soltanto abbiamo la documentazione di questa aggressazione, ma un altro furto fu perpetrato i danni di un monaco, un monaco cistracense. Siamo a pochi anni dopo, 1293, un altro furto fu compiuto proprio sulla via Francigena, nella zona di Vespolate, ai danni di questo Davide, monaco cistracense. Dice lo storico Franco Cardini di Firenze che nel XI secolo protagonista è la strada sulla quale si incontrano i contadini in cerca di terra, i mendicanti, i pellegrini, i predicatori, i predicatori itineranti, i primi mercanti, i girovaghi, i cantastorie, cantastorie nelle fiere da cui nascevano e nasceranno poi le chansons des gestes. In un certo senso, in questi anni, tutti sono un po' pellegrini. Questa mobilità, questo rigoglio di vita economica e culturale si inserisce in un mondo feudale ormai in crisi di trasformazione. Anche Dante Lighieri ci viene in aiuto e ci parla dei pellegrini nella sua vita nuova. Peregrini, dice Dante, si possono intendere in due modi, in uno largo e in uno stretto. In largo in quanto è peregrino chiunque fuori dalla sua patria. In modo stretto non si intende peregrino se non chi va verso la casa di San Jacopo, o ritorna, o riede. Però è da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno dal servizio dell'Altissimo. Chiamasi palmieri in quanto vanno oltre mare, da onde molte volte recano la palma. Chiamasi peregrini in quanto vanno alla casa di Galizia. Chiamasi romei in quanto vanno a Roma. Ecco qui le tre distinzioni di Pellerini. Gerusalemme sono i palmieri e tornano da Gerusalemme con questa palma. Ricordo del loro viaggio compiuto in Terra Santa. Romei, coloro i quali vanno a Roma. Invece i Giacobiti o Giacò, coloro i quali, pellegrini in senso stretto, dice Dante, coloro i quali vengono a Santiago di Compostela. Ebbene i pellegrini, qui abbiamo una immagine, che guardiamo, sono rappresentati in questo affresco che si trova in una chiesa ormai inglobata nella casa Shalom a Ponzana, nella bassa Novarese. I pellegrini qui sono inginocchiati in preghiera davanti a San Giacomo. Vedremo più avanti un'immagine un pochino più completa di questo affresco. Interessante però perché li troviamo con l'abbigliamento tipico dei pellegrini di quei tempi, ossia con una mantella corta sopra il ginocchio per permettere la diambulazione facile, degli stivaletti di cuoio, possibilmente una mantella anche più pesante, un mantello più pesante per coprirsi anche dalle intemperie, un grande cappello, il cosiddetto petaso, su quale tra l'altro sono segnati e sono indicati i simboli del pellegrino, o le chiavi di San Pietro, oppure la conchiglia che veniva presa proprio quando il pellegrino giunto a San Diego di Compostela si arricchiava poi lungo la strada che portava a Finisterre, sull'oceano, vicino all'oceano e qui raccoglievano la conchiglia che poi diventava il simbolo del loro pellegrinaggio. E poi non dimentichiamo un altro grosso importante simbolo del pellegrino, è il bordone, ossia il bastone del pellegrino, nodoso, grosso, che serviva sia per appoggiarsi durante il lungo percorso, ma anche per difendersi da eventuali malviventi o dai lupi, d'animali feroci che colpivano e potevano anche rendere difficile, appunto, difficoltosa la strada. Un'altra immagine che vediamo, e questa è tratta da un affresco presente nella chiesa di San Giovanni Battista a Quarona, una chiesa molto antica, risalente al XII secolo, ebbene ritroviamo sempre con la loro mantella corta, il bordone del pellegrino. In questo caso il petrose ha un altro simbolo, il Tao, il Tao francescano, ebbene in preghiera anche essi. Prima di partire i pellegrini tante volte facevano testamento, perché non sapevano se tornavano a casa, per cui lasciavano quelle poche cose che avevano i loro figli e le loro mogli, e affrontavano questo periglioso viaggio. Prima di partire recitavano preghiere, tra cui questa preghiera che leggiamo. Prendete questi bastoni, queste bisacce, partite alla soglia degli Apostoli, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, per intercessione della Beata Vergine Maria, di tutti gli Apostoli e Santi. Possiate ottenere in questo mondo il perdono dei vostri peccati, e nel mondo futuro la comunione con tutti i giusti. Un'altra preghiera del pellegrino è la seguente. O Dio, che avete fatto partire Abramo dal suo paese e l'avete conservato sano e salvo attraverso i suoi viaggi, accordate ai vostri figli la stessa protezione, sosteneteci nei pericoli, alleggerite il cammino, siate per noi ombra sotto il sole, mantello contro la pioggia e il freddo, sorreggeteci nella fatica, difendeteci contro tutti i pericoli, siate il bastone che evita le cadute e il porto che accoglie i naufrighi, cosicché da voi guidati possiamo raggiungere certi la nostra meta e ritornare sano e salvo a casa. Quest'immagine che vediamo riguarda la vestizione del pellegrino. È un'immagine tratta da un affresco presente nell'abbazia di Nuovalesa, il personaggio è Sant'Eldrado, il quale riceve la veste e la bisaccia dal suo abate, prima di affrontare un viaggio molto lungo, ebbene la mantella, tipica del pellegrino, la bisaccia doveva sempre essere aperta per manifestare la generosità che aveva il pellegrino nei confronti del prossimo. Teneva quel poco, una croce, un crocifisso di legno, forse un libro di preghiere, per quelle poche preghiere che conoscevano, molte volte erano girate in memoria, oppure quel poco pane e con panatico, un pezzo di formaggio, che poteva essere anche donato al più povero di lui. Oppure simbolicamente poteva rappresentare questa bisaccia aperta proprio la generosità, l'apertura al mondo, l'apertura al più povero di lui. Ebbene un'altra immagine che vediamo riguarda, sempre relativa alla vestizione del pellegrino, la consegna dell'abate a Sant'Eldrado del bastone, il famoso bordone, importante proprio perché serviva proprio per appoggiarsi oppure per affrontare questo viaggio e per difendersi da ogni pericolo. Tanti erano i tipi di pellegrinaggio, c'era il pellegrinaggio per penitenza o giudiziale così chiamato, coloro i quali si sentivano appesantiti da colpe, ecco che allora si ricavano in un luogo santo, in un santuario, a Roma in particolar modo, Santerio di Compostela per chiedere perdono dei propri peccati e ripulire la propria anima. Oppure c'era il pellegrinaggio per voto, un voto che si pronunciava nei confronti di un santo per avere una grazia. I pellegrinaggi potevano essere anche collettivi oppure a pagamento sostitutivi così chiamati. Infine, come anche oggi, il pellegrinaggio turistico. Anche qui abbiamo dei documenti che ci possono aiutare a capire meglio come viveva e come procedeva il pellegrino del Medioevo. Il primo documento risale al 1026. È una cronaca di un certo Ademaro di Chaban e si legge questo. In quel tempo, Guglielmo, conte di Angoulême, si diresse attraverso la Baviera verso il sepolcro del Signore. Lo accompagnarono donne di Bourges, Riccardo Abate di Verdun e una grande schiera di nobili. Si mise in viaggio il primo giorno di ottobre, giunse la città santa, la prima settimana del mese di marzo, e ritornò a casa la terza settimana di giugno. Abbiamo anche dei indicatori temporali che ci permettono di capire quanto poteva durare un viaggio a quei tempi. È notevole questo documento in quale ci permette di far capire come si muovevano anche collettivamente, in gruppi, non soltanto gente povera e semplice, ma anche re, principi, nobili. Un altro documento del 33-1033 è tratto dal Rodolfo il Grabero, la cronaca di Rodolfo il Grabero. Così dice, nello stesso tempo, una folla innumerevole presa a concorrere dal mondo intero verso il sepolcro del Salvatore di Gerusalemme. Furono dapprima le classi inferiori, poi il centro medio, poi tutti i più grandi, re, conti, marchesi, prelati, cosa che non era mai accaduta prima. Molte donne, le più nobili, con le più povere, si ricarano laggiù. Quindi i pellegrinaggi collettivi, insieme a quelli di gente povera, troviamo anche nobili di alto lignaggio. Scrive Onore di Houghton, siamo nel XII secolo, e questo fa riferimento a questi pellegrinaggi un po' turistici, ci si mette per strada, per curiosità o per glorietta. L'unico vantaggio che traggono i pellegrini è quello di aver visto dei luoghi piacevoli, o dei bei monumenti, o di ottenere la glorietta che desideravano. La glorietta era appunto un oggetto, un reliquio, oppure un piccolo oggetto significativo che portavano a casa e davanti al quale poi si pregavano nel corso del resto della vita. E' tratto questo documento dalle lucidarium del XII secolo. Ma c'è chi ironizza su tanti pellegrinaggi fatti non tanto per devozione, ma per altre ragioni. Erasmo da Rotterman infatti così ricorda. Uno ha la mania di rinnovare il mondo, un altro propende per il grandioso. C'è chi senza nessuna ragione di affari lascia la casa, la moglie e i figli, se ne va a Gerusalemme e Roma o a San Giaco di Compostela. Ultimo documento che citiamo del 1413 è dato da un commercante di Lubecca, un certo Ioannes Ige, il quale aveva scritto un testamento e nel suo testamento così dispose che i suoi eredi avrebbero dovuto inviare un pellegrino a Santiago di Compostela e un altro di Gerusalemme. In questo caso era un ricco mercante di Lubecca, un mercante il quale per salvare la propria anima invia due pellegrini, pellegrinaggio pagamento viene chiamato, che si arricchino in due luoghi importanti, Gerusalemme e Santiago di Compostela, per pregare per la sua anima. Non si è più in grado di percorrere questa lunga via. Abbiamo qui un'immagine, la cattedrale di San Donnino, San Donnino è il protettore dei pellegrini e accanto al portale vi è una colonna sulla sinistra, San Pietro con le sue chiavi e un cartiglio, su cui c'è scritto questa strada porta a Roma. Poi lungo una fascia sono scolpite delle figurine molto interessanti, presumibilmente eseguite dal famoso scultore Antelami, che raffigurano proprio una serie, un pellegrinaggio di tante centinaia di figure di pellegrini. Ancora una volta possiamo confermare qual era l'abbigliamento tipico del pellegrino mediovale. Corte mantelle, stivaletti o di cuoio, il cappello proprio molto ampio, il famoso petaso, poi le bestie da Soma che portavano le merci, oppure i bastoni. Qui abbiamo un'altra figura molto interessante, sempre dell'Antelami, con questi bastoni nodosi, i bordoni, una mantella anche con cappuccio. Ebbene è tutta una fascia interessantissima che riproduce proprio figure mediovali. Lungo le strade chiaramente c'erano delle taverne, ma c'erano anche gli ospizi, ospitali, i famosi di Senodocchia, che erano legati ai monasteri, che davano ospitalità. Abbiamo un'altra immagine, qui tratta da una cappella di San Giacomo, a Prel, dove troviamo dei pellegrini che ricevono da una locandiera un bicchiere d'acqua per poter dissetarsi. Abbiamo un'altra immagine che guardiamo e qui abbiamo un pellegrino che torna da Gerusalemme con le palme in mano, i famosi palmieri di cui parla anche Dante di Gheri. Quando nel XV secolo i turchi ottomani infestarono il Mediterraneo, i nostri pellegrini non poterono più raggiungere i luoghi sacri, partiamo da Gerusalemme, e dovettero provvedere i frati francescani, in questo caso, a costruire dei luoghi sacri lungo le nostre Alpi per poter sostituire il pellegrinaggio a Gerusalemme. Uno di questi, anche il più antico, siamo al 1493, è la nuova Gerusalemme di Varallo-Sesia, voluta proprio da un frate francescano, Bernardino Caimi. Ebbene, in questo modo, i nostri pellegrini italiani o francigini o che altro, potevano accorciare i tempi e il percorso senza raggiungere Gerusalemme e raggiungevano appunto luoghi alternativi, sostitutivi, che volevano raffigurare i luoghi sacri. Infatti a Varallo-Sesia sappiamo che nelle varie cappelle sono rappresentati momenti importanti della vita di Gesù, è la nuova Gerusalemme. Un altro santuario importante della nostra diocese è quello del Sacro Monte d'Orta, qui viene raffigurato attraverso le nostre cappelle, momenti di vita di San Francesco, l'Alter Christus, momenti su cui i pellegrini riflettevano, meditavano per avvicinarsi alla figura di questo grande santo, Francesco, che veramente ha fatto una vita fortemente legata al Vangelo, fortemente innervata nel Vangelo. San Giacomo è per Antonio Masia il santo protettore dei pellegrini, insieme a lui anche San Donnino abbiamo già citato, San Cristoforo, ma San Giacomo sicuramente ricordato in quanto uno dei principali apostoli che hanno vissuto accanto a Cristo nei momenti salienti, pensiamo alla risurrezione della figlia di Gairo, alla trasfigurazione dove lui era presente insieme a Giovanni, suo fratello, i cosiddetti figli di Zebedeo, oppure durante la notte di Gezzemani. San Giacomo dopo la morte di Cristo, predicatore, risorgeva le persone, venne decapitato, morì martire e il suo corpo, narra la leggenda, fu portato un Vangelo con una barca verso la Galizia, qui venne sepolto e poi nel IX secolo fu ritrovato il sarcofago, il sepolcro di questo santo e da allora nacque la devozione per San Giacomo. San Giacomo di Compostela, proprio cominciò il primo oratorio, poi successivamente chiese assieme più importanti fino all'attuale di stile barocco. San Giacomo è il santo psicopompo che accompagna le anime verso l'altro mondo. La Via Lattea è composta da tantissime anime che percorrono la Via dei Cieli e San Giacomo appunto è il protettore dei pellegrini su questa terra ma anche aiuta la persona ad attraversare quel momento saliente della nostra esistenza che è appunto la morte. Ebbene è raffigurato nelle varie chiese con l'abbigliamento da pellegrino. Qui abbiamo in una chiesa di San Giacomo a Bogogno la figura di San Giacomo Apostolo con il col cappello e il petaso che è alle spalle, la mantella, oppure anche in questa immagine è un affresso che si trova nella chiesa di Ponzana, San Martino di Ponzana, è un oratorio oggi inglobato nella casa Shalom, nella zona della bassa Novarese e raffigura San Giacomo nell'abbigliamento tipo del pellegrino con tanto anche di conchiglia, il simbolo del pellegrino che sta tenendo con le mani un bambino appeso, impiccato. È il famoso miracolo dell'impiccato. È un miracolo che veniva narrato nel passato secondo varie interpretazioni e anche diverse narrazioni. Una tedesca, una spagnola, una francese. Noi cerchiamo di fare una sintesi, ricordiamo che questo miracolo avvenne lungo la via Lattea, lungo la strada che portava Santiago di Compostela nella zona di San Domenico della Calzada, dove oggi sorge una grande chiesa, una grande cattedrale che ricorda proprio questo miracolo. E anche alcune nostre chiese delle diocese di Novarese raffigurano questo miracolo. Per cui possiamo ipotizzare che nei luoghi dove appunto è effigiato e rappresentato e affrescato questo miracolo passassero pellegrini, passassero persone che appunto pregavano San Giacomo e invocavano San Giacomo per ottenere una loro grazia. Ebbene la narrazione dice che anticamente un gruppo di pellegrini che si stava arriccando a Santiago si fermò in una locanda nei pressi di San Domenico della Calzada per cercare appunto un riposo, per rifocillarsi. La fanciulla, figlia dell'oste, si invaghì di un giovane pellegrino che seguiva appunto il gruppo e però non ebbe alcuna corrispondenza da parte del giovane per cui un po' per vendetta mise durante la notte nella sacca, nella bisaccia del giovane pellegrino un oggetto prezioso della locanda. Il giorno dopo i pellegrini ripartirono per raggiungere appunto Santiago, la ragazza denunciò il furto, i gendarmi, le guardie del luogo raggiunsero la comitiva, fermarono, la fermarono, aprirono tutti gli zaini dei bisacci e dei pellegrini e trovarono l'oggetto prezioso. Presero il ragazzo, i genitori seguirono il fanciullo, lo portarono nel centro urbano, venne giudicato e condannato a morte per impiccagione. I genitori cercarono di implorare il giudice di fare la grazia ma nulla valse, così che andavano allora a pregare a Santiago di Compostela e dissero almeno che il santo ci aiuti e ci faccia andare in paradiso nostro figlio, dato che ormai la condanna a morte è inevitabile. Giunssero a Santiago, dopodiché pregarono il santo che aiutassero il figlio almeno a raggiungere il paradiso, tornarono poi a San Domino della Calzada, andarono nel luogo dove venne impiccato il figlio e lo trovarono ancora vivo. Andarono loro dal giudice, il quale in quel momento stava facendo un banchetto con tanti altri commensali, personaggi famosi, magistrati del luogo, figure di importanti nobili del tempi, ebbene si fecero passare e dissero al magistrato, nostro figlio è ancora vivo e il magistrato superbamente rispose, vostro figlio è vivo come i polli che stavo mangiando in questo momento e in quel momento, miracolosamente, narra la leggenda che i polli ripresero vita e si misero a cantare. Oggi i pellegrini che vanno sulla via Latte, così chiamata, la strada principale che porta a Santiago di Compostela, a San Domino della Calzada, nella cattedrale c'è ancora una stia dorata che conserva polli vivi, che vengono chiaramente alternati nel corso dei secoli e che rappresentano e che vogliono raffigurare e rappresentare questo miracolo molto originale, molto pittoresco se vogliamo. La cosa interessante è ricordare che in alcune chiese di San Giacomo si raffigura il miracolo dell'impiccato, oggi non direbbe più nulla, ma a quei tempi il pellegrino ricordava il miracolo e lui stesso implorava il santo che venisse in conto le sue esigenze e facesse la grazia. Un'altra immagine che ci rappresenta il miracolo dell'impiccato si trova nell'oratorio di Ceglio chiamato San Jacupitu e qui troviamo a sinistra il santo che tiene a appunto sulle mani il bambino la forca, i due genitori che implorano il santo che faccia appunto la grazia e poi interessante al centro in alto i due polli, questi due volatili che appunto iniziano a volare, a cantare proprio in seguito al miracolo. Torniamo alla nostra mappa, vediamo come è segnalata la via Francesca Novarese con un tratto verde, poi si biforca Momo, infatti lo storico Andenna così dice, la citazione viene dal Novarien numero 7 del 97, la strada del Novarien si snodava verso nord-ovest dopo aver guardato Lagonia a Vadoborone e risaliva per Cavaglietto, Cavaglio Mediano, Cavaglio Superiore fino a Fontanetto per poi proseguire in Pieve di Cureggio sino a Gozzano, Lago d'Orta all'Ossola. Sempre da Momo, più o meno dove si trova attualmente la Chiesa della Trinità, però andando verso nord-oeste, scorreva una via che nei documenti viene chiamata Via Santiginesi o ad via Xuni che passava per Vaprio, Suno, Bogogno, Agrate e proseguiva nel Cusio, nell'Ossola fino a Sempione. Ecco, lungo questa strada di cui la mappa presenta il tratto troviamo diversi monasteri, ormai sono rimasti pochissimi, e molte chiese dedicate a San Giacomo. Il primo monastero che vorrei farvi vedere anche attraverso l'immagine è quello di Cassadetto Cervo fondato nel 1014 e voluto dai Conti di Pombia, poi di Biandrate. il quale ha avuto una serie di filiazioni e alcune sono proprio nella nostra diocesi. Tra queste ricordiamo il monastero ormai, e rimane solamente alla Chiesa, dedicata sempre a San Pietro e Paolo, quella di Carpignano-Sesia. Qui ci troviamo nel XII secolo, 1141, fu un punto ceduta dai Conti di Biandrate ai monaci benedettini, clunecensi, riformati. Divendo così una dipendenza del priorato di San Pietro di Castelletto Cervo nel Vercellese. Un documento del 1194 attesta che il Papa Lucio II riconobbe San Pietro, questo monastero, e altre chiese locali come pertinenza del priorato dei monaci clunecensi di Castelletto Cervo. Un altro monastero che troviamo lungo questa strada è quello di Cavaglietto. Ancora siamo nell'XI secolo, e qui un gruppo familiare di nobili vollero donare all'abbazia cumminacense la chiesa e il castello del villaggio, allora detto di Cavaglio Mediano, coincidente oggi con la cascina monastero, con un fossato e le sue fortificazioni. Lungo la strada troviamo anche una mansione templare, è quella che si trova vicino a Casal Beltrame, oggi chiamato appunto monastero di Santa Pollinare, dove ha sede il gruppo dei ricostruttori. Questa mansione templare è citata in un documento del 1164. Arriviamo a Momo, qui abbiamo la chiesa di Santa Trinità, è una chiesa antichissima che verosimilmente risale all'XI secolo e poi ebbe successive ricostruzioni, quella che vediamo del XIII secolo e gli affreschi sono del XIV-XV secolo. Ebbene, come diceva Andenna, qui le strade si biforcavano, una a est, raggiungeva Suno e saliva poi da Bogogno a Gratte e raggiungeva poi la zona di Arona per poi mettersi sul Vergante, l'altra invece a ovest, passava da Cavaglio Mediano, Fontaneto, Cureggio e raggiungeva Borgomanero. A Santa Trinità di Momo vi era anticamente una cappella di sosta per viandanti. Un altro monastero tutt'oggi esistente è quello di San Fabiano e Sebastiano del 1000, del 908 precisamente, del X secolo, dove si celebrò un famoso processo per eresia dei patarini. Qui abbiamo un'immagine della chiesa dedicata ai Santi Sebastiano e Fabiano. Una chiesa dedicata a San Giovanni Battista ed era annessa a una mansione dei Gerosolimitani, ossia quei monaci cavalieri che proteggevano le strade dei pellegrini, si trova a Cressa. È la chiesa di San Giovanni e qui è una chiesa del 300 e accanto ad essa esisteva appunto un ospitale per pellegrini mercanti. Se noi ci dirigiamo verso est, troviamo la Pieve di Suno citata in più documenti. Ci ha nel 1132 in una bolla papale di 1902, poi in un documento del 220 dove si parla di un ospitale e ancora nelle consignazioni del 1347. Ebbene la Pieve di Suno, dice ancora Andenna, era il centro delle comunicazioni che si svolgevano da Vercelli e da Novara verso i laghi, verso l'alto milanese, verso l'Ossola, luogo dunque di importanza strategica eccezionale. E qui c'è un'altra immagine che ci raffigura una strada che quando hanno fatto gli scavi per posare il gasdotto che andava in Olanda, hanno trovato un'antica strada medio-ovale, come l'immagine vi fa vedere. Su questa strada probabilmente venne effettuato quella grassazione, quel furto ai danni degli ultramontani, di questi mercanti che provvedevano dal nord. E andiamo a Bogogno, qui abbiamo l'oratorio di San Giacomo del XV secolo, un affresso che riproduce San Giacomo e l'impiccato. Da Bogogno si arriva a Gattico, antiche strade che sono ancora oggi percorribili in bicicletta o a piedi. Si raggiunge da Gattico a Borgogliello oppure a Giate Superiore con la chiesa di San Giacomo, protettore della parrocchia e San Nicolao di Barraggiola. Se poi si spostava verso ovest, si raggiungeva il Borgo Franco con San Leonardo, da Borgomanero e da San Nicolao di Barraggiola si risaliva a Briga, qui abbiamo l'antica chiesa di San Tommaso, XI secolo, con bellissime affresche molto antiche, e poi si raggiungeva Gozzano. Anche qui un documento ci viene incontro e ci suggerisce che esisteva già nell'XI secolo un ospitale che univa dei servigi caritatevoli verso l'umanità a quelli del culto religioso. Si trovava dove oggi sorge il palazzo Vescovile. La via Francigena ci portava poi verso l'isola di San Giulio, si poteva arrivare all'ido di Gozzano e qui si imbarcava su Bucintoro se il vescovo raggiungeva l'isola oppure Pellegrini su barche per attraversare il lago, oppure la via proseguiva verso Bozzano-Novarese a meno, raggiungeva Orta e poi continuava verso Carcenia, Pettenasco e Omenia. Un altro oratorio interessante che al cui interno troviamo un altro affresco dedicato proprio al miracolo dell'impiccato si trova a San Giacomo di Oira, è una chiesetta del XIX secolo, una chiesa privata che si trova vicino a Fondo Toce e qui proprio la strada continuava verso l'ossola. A Mergozzo, come vedete dall'immagine, c'è un ospitale tutt'oggi esistente con tanto di data, 1593, e il simbolo dell'Ordine di Malta, la Croce di Malta. Poi la strada continuava nel lungo l'ossola raggiungendo centri importanti come la capitale della bassa l'ossola a Vogonia, dove sorgeva una chiesa dedicata a San Giacomo e Cristoforo, ai santi Giacomo e Cristoforo. Qui vediamo il portale. Vogonia era un centro molto importante, già citato nei documenti notarili nel X secolo. E il portale, la chiesa poi del Mediovale crollò, salvarono il portale che raffigura proprio due santi protettori dei pellegrini, San Giacomo e San Cristoforo. Giunta a Baceno troviamo questa bellissima chiesa monumentale dedicata a San Gaudenzio, la cui facciata riporta il grande San Cristoforo, 6 metri di altezza, così che i pellegrini da lontano potevano già impettrare grazie o chiedere aiuto a questa figura di santo, protettore in chiesa dei pellegrini. Lungo la Valformazza, vicino a Premio, troviamo un oratorio dedicato a San Bernardo, dove ancora ci sono i resti di un antico ospizio del XIII secolo. Ecco qui le immagini, qui abbiamo anche un disegno, una ricostruzione di questo ospizio e poi si arrivava appunto ai passi. Qui la Valformazza era attraversata soprattutto da mercanti, anche pellegrini certamente, non dimentichiamo che se andava dal Valformazza ci si arricava a Interlaken, un famoso monastero svizzero tutt'oggi esistente. Molte però erano i mercanti che attraversavano. I documenti che abbiamo del XV-XVI secolo ci parlano proprio di mercanti formazzini, i quali affrontavano tempeste di neve con nove muli cariche di vino, oltre che mele castagne, con slitte trenate da buoi e così via. Andavano appunto in Svizzera a portare le loro merci. Quella del Gries era proprio una via commerciale che conduceva verso Berna o da Berna verso Milano e portava appunto al passo del Gries o al passo San Giacomo. Abbiamo dei documenti tra cui un contratto commerciale risalente al 12 agosto del 1397 in cui così leggiamo noi rappresentanti della città di Berna, del monastero di Interlaken e dalla valle dell'Asli da una parte, di tutti i villaggi del Gomus appartenenti alla parrocchia dei Munster da un'altra e dell'Ossola e della Valformazza da un'altra ancora, riuniti a Munster abbiamo stretto un accordo decennale per la costruzione, manutenzione e sicurezza della strada verso Pomat e l'Ossola. Per i commercianti lombardi e altri che passano con le loro mercanzie attraverso il nostro territorio, Berna, Interlaken, Vallese, Formazza, Ossola, ci impegniamo a tenere sicuri i commercianti e le loro mercanzie. Quali erano le mercanzie che portavano i mercanti di quel tempo? Sale, frumento, segale, miglio, avena, riso, panni di lana, seta, zucchero, spezie o ancora dalla Svizzera provenivano cariche di trementina, lana, tela, pelli oppure ancora a fustagno, oggetti di artigianato sacro come le satuine di legno o anche reliquari d'argento, cristalli, formaggi, il famoso Sbrinz. Da questa strada passarono anche personaggi famosi, tra cui Wagner, qui abbiamo la casaforte che si trova a Ponte e una targa che ricorda il passaggio di Wagner. Siamo nel 1852, 18-19 luglio, Wagner pernottò in questa casaforte e ricorda, nella sua autobiografia, come grande impressione mi fece all'uscire dalla deserta immobilità delle altezze, il primo contatto con il mondo abitato e il primo pascolo di nuovo accessibile al bestiame, dove incontrammo la prima creatura umana, si chiamava Betelmatt, sono infatti i pascoli di Betelmatt, dove oggi si fa il famoso formaggio. Passo del Gries, qui abbiamo un'immagine del passo, venne utilizzata appunto la città di Berna dopo la sua fondazione nel 1191 e collegava appunto alla Valformazza, l'Alto Vallese e alla Vallata del Rodano. Passiamo adesso alla Valle del Sempione, Valle di Vedro, troviamo una chiesa dedicata a San Giorgio, proprio a Varzo e qui all'interno di una lunetta, come vediamo dall'immagine, abbiamo figiato ancora il miracolo dell'impiccato, è un ponte che passa proprio sopra il torrente che scorre nella valle. Si raggiunge perciò il Sempione, passo molto alto, 2.500 metri, già frequentato nell'antichità e soprattutto nel periodo medio vale. Sul Vallico, l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme fondò nel XII secolo un ospizio dedicato a San Giacomo. Il Vallico del Sempione, questo nome appare per prima volta in un documento del 1235 quando frate Guglielmo di Chaumont, della casa espitoliera di Conflè, concede a Walter Seman una vigna nei pressi di briga, pertinente all'ospizio del Sempione. Frate Bernardo, lo stesso anno, è magistra domus ospitalis del Simplon. L'ospizio è tenuto poi dai monaci, o meglio ancora dai cavalieri ospitalieri. Dal Sempione passarono diversi intellettuali, personaggi famosi, tra cui ricordiamo Alessandro Volta, lo scienziato, i letterati Standal, Gautier, il grande Dostoiessi con sua moglie Anna, Dickens e anche Cellini, già nel XVI secolo. Di Cellini abbiamo un documento, nella sua autobiografia, infatti, Benvenuto Cellini così ricorda, Passato che noi avemmo gli monti del Sempione, trovammo un fiume presso un luogo domandato in De Vedro. Questo fiume era molto largo, assai profondo, e sopra esso avevo un ponticello lungo e stretto, senza sponde, conosciutolo molto pericoloso. Comandai la mia servitù che scavalcassero menando l'illor cavalli a mano. Così passai il detto ponte molto felicemente, e me ne venivo ragionando con un di quei due francesi, il quale era un gentiluomo. Il secondo francese disse al Cellini che lui era un uomo di poco animo e che qui non era appunto pericolo. Mentre diceva quelle parole, il suo cavallo sdrucciolò. Fuor dal ponte, con le gambe verso il cielo, cadde accanto al sasso grandissimo. E il Cellini, con grandissima prontezza, lo raggiunse e lo prese per un lembo della guarnacca, che indossava quell'uomo, e per un lembo, dice Cellini, lo tirai su, e lo salvò. Il francese aveva bevuto assai acqua e poco stava che sarei affogato. Come dicevo, Alessandro Volta percorse questa strada e scrisse, niente di più pettoresco che la vallata di Iselle. Là si attraversa per giungere al ponte di Crevola, ove incomincia il bel paese. Per un viaggio in Italia conviene vestirsi con la massima semplicità e non portare gioielli. Lo scrittore Teofil Godier dipinse come in una fresco la vita paesana attraverso queste parole. Il paesaggio diventa gaio e ridente, carrette cari a buoi vanno e vengono, contadini sbuccono da sentieri laterali, contadine graziose con una larga striscia rossa all'inferiorità della gonna ci ammirano col loro grande occhio meridionale. Case bianche e campanili si mostrano nel verde. Ci si accorge da una certa eleganza che non si è più in Svizzera, dal voyage in Italie. E ancora ricordiamo Dostoievski, il figlio Dostoievski, il quale insieme alla moglie Anna sceglie dal valgo del Sempione percorrendo in carrozza la strada sul versante italiano. Poi si fermarono a Domodossola e giunti in un negozio acquistò una collana per sua moglie. Un altro romanziere, questa volta inglese, Dickens, passò il Sempione il 5 novembre del 1844 partendo da Milano in diligenza, poi preso una slitta trainata da cavalli per salire al passo del Sempione. Grazie a queste vie, e qui vediamo ancora le mappe, torniamo alla nostra mappa del Piemonte e poi allarghiamo il campo da quella di Novara a quella del Piemonte finché troviamo in questa mappa tutte le vie, le principali chiaramente, che portavano a Sant'Ego di Compostela, la via Podense, la via Tournense, la via Lemovicense e altre ancora, la via Lattea anche. Ebbene queste vie che si ritrovano poi tutte nei grandi centri sacri della cristianità mediovali. È quasi una università itinerante. In quel periodo, tra l'undicesimo e il quindicesimo secolo, si formò infatti l'Europa del futuro. Pellegrini, mercanti, re, principi, cavalieri, giullari, menestrelli, artisti, vagabondi di ogni specie, vescovi, preti, monaci, chierici, gente comune, mendicanti, si scambiarono di idee, diffusero cultura religiosa, profana, furono i primi depositari della coscienza europea.